Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Un terribile lutto ha colpito la televisione italiana, in particolare le reti Mediaset. Con grande dispiacere, annunciamo la scomparsa di una figura iconica della nostra infanzia, un nome che ha segnato un'epoca. È stata una triste notizia per tutti i nostalgici e gli appassionati di sigle di cartoni animati degli anni 80 e 90. Questo pilastro della televisione italiana è scomparso a 67 anni nelle scorse ore. La notizia ha sconvolto anche la celebre Cristina D'Avena, poiché la grande artista e autrice che ha contribuito al suo successo è venuta a mancare. Chi è questa persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti? Si tratta di Alessandra Valeri Manera. Per anni è stata responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset, scoprendo e valorizzando Cristina D'Avena. Ha contribuito alla creazione di programmi iconici come Bim Bum Bam e Ciao Ciao e ha scritto indimenticabili sigle di cartoni animati come l'incantevole Crimi e Occhi di Gatto. La sua firma era presente alla fine di ogni programma per ragazzi di Mediaset negli anni 80 e 90, diventando una figura fondamentale per tutti coloro che hanno vissuto quei meravigliosi anni. Alessandra Valeri Manera è scomparsa nella città di Rapallo, in provincia di Genova. Ricorderemo sempre Alessandra Valeri Manera per il suo contributo inestimabile alla televisione e per aver valorizzato talenti come Cristina D'Avena. Riposa in pace, Alessandra. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Grazie per la visione. M